Ciao, sono Marco Doria e oggi ti racconterò la vita straordinaria di Abramo Lincoln, o meglio, in italiano, Abramo Lincoln. È stato il sedicesimo presidente degli Stati Uniti d'America, è stato colui che ha abolito la schiavitù, ha istituito quello che è il giorno del ringraziamento e ha sostenuto per tutta la sua vita ideali di democrazia e uguaglianza. E proprio per questi valori, per questi suoi ideali, è anche morto. È stato, pensa, il primo presidente degli Stati Uniti d'America ad essere assassinato in una sera di metà aprile in un teatro a Washington, proprio mentre guardava una commedia. La sua vita non prometteva un granché, perché è figlio secondo genito di poverissimi pionieri e di origine britannica. Quindi un secondo genito sappiamo che non può pretendere già nulla, non ha eredità, non ha niente, di gente povera in terra straniera. Ed è cresciuto tra fattorie, spesso spostandosi da un villaggio all'altro alla ricerca di fortuna. È stato privato dell'istruzione e quindi ha dovuto studiare da autodidatta. Però è sempre stata una persona determinata, gentile, che è diventato prima avvocato, poi politico, ma soprattutto un grande oratore. 190 centimetri di cortesia e di lealtà. Il suo percorso di infanzia umile si trasforma in una leadership di caratura nazionale, che lo ha reso simbolo di una perseveranza e di possibilità in tutti gli Stati Uniti d'America, proprio come incarnazione del sogno americano. La sua determinazione a superare le avversità e raggiungere il successo ha quindi ispirato tantissime persone proprio a lottare per i propri obiettivi. E come i suoi discorsi ispirazionali e profondi che restano nella storia, così la sua malinconia e la sua tenacia. Vediamo ora, da quando nasce a quando muore, cosa fa e come lo fa. Siamo nel 12 febbraio del 1809. Abraham Lincoln nasce in una capanna di tronchi e giunchi nella fattoria agricola Sinking Spring, nella contea di Harding, nello stato del Kentucky. Il papà, Thomas e la mamma, Nancy, sono pionieri di origine britannica, come abbiamo detto, e sono molto poveri, non hanno una lira. E quindi si devono arrangiare. Nel 1816, infatti, la famiglia Lincoln attraversa l'Ohio e si trasferisce nei boschi dell'Indiana, proprio a cercare fortuna. Nei boschi si cerca sempre qualcuno che abbia voglia di lavorare, si cerca mano d'opera e quindi loro si spostano in base alla richiesta di lavoro. Purtroppo, però, il 5 ottobre del 1818, Abraham Lincoln ha nove anni, sua mamma Nancy muore a causa di un'intossicazione dovuta a latte contaminato, lasciando Thomas con i due figli, Sarah e Abraham. Dobbiamo sapere che accadeva spesso alle donne pionieri americane di contrarre questa malattia, che era chiamata proprio la malattia del latte. Non passerà molto che il papà Thomas si risposi. Infatti, nel 1819, un anno dopo, si sposa con Sally, vedova con tre figli. In queste situazioni bisognava darsi da fare, nel senso non era tanto una questione di passione, ma era una questione di sopravvivenza riformulare una famiglia, riformare un nucleo familiare. E quindi il papà Thomas cerca subito aiuto di una donna e una donna vedova aveva bisogno di un uomo. E quindi si congiungono e comunque Abraham non accetta malissimo questa nuova condizione. Anzi, questo contesto lo aiuta a diventare molto tollerante. Un bambino che accettava gli altri, accettava anche le nuove condizioni. Sono anche anni in cui Thomas lavora molto duramente con la famiglia. Lui non ha accesso all'istruzione e quindi per istruirsi, siccome è una sua grande volontà, deve scogitare qualcosa. E si inventa di chiedere a delle persone di dargli dei rudimenti, delle specie di ripetizioni e si assicura di imparare perlomeno la scrittura e il calcolo. Pensate che ogni giorno, dopo il lavoro, è costretto a camminare per dei chilometri a piedi, senza scarpe, per raggiungere questi maestri, queste persone che lo aiutavano. E nel suo tempo libero, che è davvero poco, si dedica alla lettura. E questo fa nascere in lui una passione, la passione per l'arte oratoria. Per essere dei bravi oratori bisogna innanzitutto leggere molto, bisogna saper scrivere e soprattutto bisogna avere dei riferimenti, ovvero altri oratori che parlano per poterne intraprendere le movenze, i tempi, i silenzi. E quindi comincia questa sua nuova passione e la scoperta di questa competenza. Siamo nel 1830 e Abraham Lincoln ha 21 anni. La famiglia vuole trasferirsi nell'Illinois, ma è autonoma, quindi Abraham decide di prendere la sua strada. E così comincia a vagare qua e là, finché nel 1831 si stabilisce a New Salem. Qui finalmente inizia a studiare seriamente, inizia a studiare legge. E nel frattempo però, essendo che non è un figlio mantenuto, deve lavorare. E per lavorare comincia a fare quello che trova. Quindi prima presso una bottega, poi presso un mulino e infine come ispettore all'ufficio postale. Quest'ultimo lavoro lo portò a viaggiare molto per la contea, quindi a conoscere varie persone e varie situazioni. Ecco, questo è anche un po' un aiuto per chi vuole diventare bravo nei discorsi, per chi vuole essere ascoltato, perché il passo principale è proprio quello di fare network, conoscere persone, avere fiducia di persone e essere ascoltato. Quello è il primo passo. Da lì in poi si può sviluppare qualcosa. Il giovane Abraham vuol far qualcosa. Ha bisogno di scalare, ha bisogno di far carriera, ha bisogno di entrare in un circuito che gli permetta di far sfogare la sua ambizione. E quindi il primo posto che riesce a trovare per poter fare un po' di carriera è proprio quello di entrare nell'esercito e quindi si arruola proprio durante una guerra, ma per fortuna non vi partecipa. Però scopre che sì, l'esercito ha tanto da insegnarti la sua gerarchia, le sue regole eccetera, ma non gli piace. Dice ok, me ne vado, preferisco puntare sulla politica. Tanto è la stessa cosa, esercito e politica. Devi diventare bravo con le conoscenze, devi diventare qualcuno nel parlare, devi avere delle idee e insomma voglio entrare in politica. E quindi viene eletto alla legislatura nel 1834 come membro del partito di Whig. Il partito di Whig era uno dei partiti maggiori della scena politica statunitense della fine degli anni 30 e i primi anni 50 dell'Ottocento. Furono quelli che promossero il sistema americano, ovvero un programma di interventismo economico che istituiva dazzi protezionisti, anche però dei sussidi federali alla costruzione di infrastrutture e la costituzione di una banca centrale per gli interessi comuni. Mentre inizia, diciamo, questa nuova avventura della politica, diventa anche avvocato nel 1837 e inizia proprio a praticare. È un avvocato che inizia anche la sua carriera professionale. Ora, sistemato questo, dice ok, la carriera ha preso la sua strada, sono anche in politica, ho bisogno, in quegli anni era molto importante, di sistemare anche il discorso matrimonio. E si sposa con Mary Todd. Con lei avrà poi quattro figli, che però purtroppo solo uno arriverà all'età adulta. Moriranno comunque giovanissimi per malattia e la perdita pare che sia dovuta all'instabilità della moglie. Comunque questo evento ha contribuito molto alla sua depressione, alla sua tristezza, che comunque lo raffigurano. Vedendo le immagini si vede proprio come un uomo magro, barbuto, con questo cappello a cilindro, cupo, così. Lui si è dovuto portare dietro questo fardello, anche se in quegli anni, parliamoci chiaro, era abbastanza normale perdere dei figli, ma era anche abbastanza normale essere depressi per questa perdita. Non è comunque naturale vedere un figlio morire. E quindi era normale, tra virgolette, essere così, essere in questa condizione, cupo e triste. Torniamo però al suo matrimonio. Nel 1846 succede un qualcosa di importante, ovvero la elezione alla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, ovvero il primo vero incarico di Abraham Lincoln. In questo periodo comincia anche però a manifestarsi quello che era il suo carattere politico e lui si oppone alla guerra del Messico. Comincia già a essere un personaggio fastidioso nella Camera, perché la guerra la volevano quasi tutti. Lui era già uno che si metteva contro e mettersi contro la guerra in quegli anni non era un qualcosa di normale. Non è come oggi, che siamo tutti contro la guerra e c'è magari uno che la vuole fare. Lì erano tutti pro-guerra e forse c'era uno che non la voleva. Quell'uno era proprio Abraham Lincoln. Comunque fa il suo mandato che dura un anno e poi riprende la sua attività legale. Cerchiamo di capire anche un po' com'era nella vita professionale Abraham Lincoln. Era una persona che lavorava con dedizione e correttezza. E era uno che amava difendere le persone, soprattutto quelle che hanno subito ingiustizie. E lo faceva molto spesso senza secondi fini. Pare anche infatti che rifiutasse gli incarichi in cui non credesse fermamente, proprio sempre in virtù di quella giustizia, di quella legalità che lo rappresentavano. Ma fare l'avvocato non era la sua vera vocazione. La sua vera vocazione era stare sul palco di fronte al popolo. E quindi nel 1854, all'età di 45 anni, torna alla politica attiva. Però abbandona i Whig e diventa il leader del neonato partito repubblicano, che conquista subito la maggioranza nello stato dell'Ininois, per intenderci. I repubblicani, tra l'altro, sono poi quelli che si battono contro l'espansione della schiavitù. Quindi a pennello con gli ideali di Abram. Ecco, nel 1858 tiene uno dei discorsi più famosi della storia. Divenuto poi un discorso fondamentale, ovvero l'House Divided, che è stato pronunciato il 16 giugno durante un discorso con Stephen Douglas, il suo avversario. La paura più grande di Lincoln è che il paese si spacchi in due a causa proprio della schiavitù. Quelli del sud a favore e quelli del nord contro. Quindi questa paura fa sì che lui reciti questo discorso. Possiamo anche citarne una piccola parte. Una casa divisa contro se stessa non può reggere. Credo che il governo non possa sopportare la permanenza di essere per metà schiava e per metà libera. Non mi aspetto che l'unione possa essere dissolta. L'unione è, diciamo, la parte del nord. Non mi aspetto che la casa crolli. Ma mi aspetto che cessi di essere divisa. Diventerà una o l'altra. O gli opponenti della schiavitù arresteranno l'ulteriore diffondersi di essa e la metteranno in un luogo dove l'opinione pubblica possa tranquillizzarsi nella convinzione che sia sul corso della definitiva estinzione. Oppure i suoi sostenitori, quelli del sud, la spingeranno avanti fino a che non diventi legale in tutti gli stati. Nei vecchi come nei nuovi. Al nord come al sud. Il significato di queste parole è chiaro. Il nord oppure il sud. Qualcuno deve cedere. C'è in schiavisti o non siamo schiavisti in America? È una cosa su cui bisogna riflettere e il contesto storico è arrivato al momento di spaccarsi a metà. Forse proprio grazie a questo bellissimo discorso che il 4 marzo 1861 viene eletto sedicesimo presidente degli Stati Uniti, come ovviamente candidato del partito repubblicano. Chiaramente i sette stati del sud non lo votano per niente. Lo boicottano anzi, perché loro sono schiavisti. Comunque cominciano anche a ribellarsi questi sudisti. Infatti il 12 aprile 1861 le forze confederate, ovvero quelle del sud, attaccano il forte Samter e così scoppia quella che è chiamata la guerra civile americana. Il conflitto poi terminerà nel 1865. Si tratta di uno dei periodi più turbolenti e critici della storia degli Stati Uniti d'America. E proprio durante questo periodo Lincoln guida il paese con una leadership molto ferma e consapevole, che rispecchiava proprio il suo carattere, e che si rivela poi cruciale per preservare quella che è l'Unione, quindi affrontare tutte le sfide politiche e militari che questa guerra presentava. Chiaramente non può mai essere solo una cosa bella per un leader forte che ci sia una guerra, perché la guerra miete vittime. Sono tantissime in questa guerra e sono anni veramente duri di devastazione. Lincoln comunque si ritrova nella condizione di dover prendere decisioni veramente difficili, da cui dipende la vita di tante persone. In tutto questo però vuol far qualcosa, vuol cominciare a far qualcosa di significativo. E così nel settembre 1862 Lincoln emana quello che è il suo primo ordine esecutivo, ovvero il proclama di emancipazione, quel documento che dichiara liberi tutti gli schiavi dai territori degli stati confederati d'America. E questo a partire dal 1 gennaio 1863. Una vera rivoluzione ragazzi, wow. In questo modo Lincoln non dimostra solo il suo grande impegno per temi come libertà e uguaglianza, ma getta proprio le basi per l'abolizione della schiavitù. Una cosa impensabile fino a qualche mese prima. Infatti sarà proprio questo proclama di emancipazione a spingere il congresso a promulgare nel 65 il tredicesimo emedamento costituzionale, quello ovvero che elimina del tutto la schiavitù nel paese. Ora però torniamo al 1863, ovvero indietro di due anni. Dal 1 al 3 luglio si tiene quella che è la più sanguinosa battaglia della guerra civile, ovvero quella di Gettysburg. In questo caso vincerà l'unione contro l'esercito confederato, ovvero il nord vince contro il sud. Però è lo scontro con il maggior numero di vittime nella guerra di secessione. La stima mi pare che sia che oltre 50.000 uomini persero la vita soltanto in quei due giorni. E quindi da qua, è vero, abbiamo vinto, ma bisogna fare subito qualcosa. Uno, per far sì che questa cosa non si ripeta più. Io devo fare in modo che le persone comprendano quanto sia stato importante finirla qua e anche quanto sia importante ricordare di non ripercorrere questi passi. Quindi la prima cosa che fa è proclamare il giorno del ringraziamento. E il giorno del ringraziamento nazionale è una cosa che tutt'oggi ancora funziona, tutt'oggi gli americani sentono molto e si celebrerà l'ultimo giovedì di novembre. Sempre nel 1863 si tenne quello che fu un altro dei discorsi memorabili di Abraham Lincoln, ovvero il Gettysburg Address, durante il quale parla dei valori fondamentali dell'unione degli Stati Uniti d'America, dell'uguaglianza e della democrazia. Questo discorso lascerà per tantissimo tempo, anzi tutt'oggi un impatto sulla morale dei cittadini americani. E lui tuttavia in questo discorso viene descritto come pallido, mogio, cupo, qualcuno ipotizza che abbia addirittura il vaiolo. Forse il peso delle responsabilità, forse uno stress post-traumatico da questi morti, da questa guerra. Forse la sensibilità nei confronti di quanto accaduto comunque non riesce a tenerlo nascosto. Però durante questo discorso succede qualcosa di memorabile. Questo discorso rimane nella storia e inizia proprio con 87 anni fa, riferendosi al 1776 che è l'anno della rivoluzione americana. Governo del popolo, dal popolo per il popolo, non abbia a perire dalla terra, ovvero non sia distrutto dalla terra. Questo discorso è talmente fantastico, talmente accettato dagli americani, che nel 1864 è rieletto presidente e inizia il suo secondo mandato. Adesso però, insomma, la guerra è finita, bisogna cercare diciamo un accordo, cioè Nord e Sud devono trovarsi e cercare di parlare di ricostruzione. Lui aveva una visione, quella di un paese unificato, quello di un paese che, unito, possa andare verso il futuro. Una ricostruzione, una rinascita, una fenice che rinasce dalle ceneri. Infatti il 9 aprile del 65 la guerra civile termina, come abbiamo detto, proprio con la resa del generale confederato Robert Lee. Ma purtroppo, solo cinque giorni dopo questo fantastico evento, ovvero il 14 aprile del 1865, Abraham Lincoln viene colpito da un proiettile alla nuca sparato da John Wilkes Booth, simpatizzante confederato, mentre si sta godendo uno spettacolo al Ford's Theater di Washington. Immaginiamoci un presidente contento da una parte che la guerra è finita, stanco dall'altra per il peso delle responsabilità, che se ne sta comodo in poltrona a guardare una commedia. All'epoca guardare le commedie era come andare al cinema, fondamentalmente. Quando il giovane e famosissimo attore, idolo delle masse, Booth, gli arriva da dietro e gli spara alla tempia, proprio nel momento degli applausi. Non è stato solo un omicidio, era una vera e propria cospirazione, ovvero bisognava eliminare il presidente che aveva fatto male alla confederazione, aveva fatto male agli stati del sud, aveva osato mettersi contro la schiavitù che portava a capitale negli stati del sud. Purtroppo il presidente muore il giorno successivo, il 15 aprile, a causa chiaramente della ferita riportata. Ed è anche, purtroppo, il primo presidente degli Stati Uniti ad essere assassinato. Abraham Lincoln è stato un politico, un avvocato, un oratore del XIX secolo. È anche uno dei presidenti più iconici e significativi nella storia degli Stati Uniti d'America. Indimenticabile. Ancora oggi esempio di resilienza e onestà. La sua leadership durante la guerra di secessione e il suo ruolo nel processo di emancipazione degli schiavi hanno contribuito per sempre alla storia americana e lo rendono una figura di grandissima importanza e uno dei presidenti più ammirati e studiati della storia. Ma, come al solito, cosa ci portiamo a casa da questo personaggio, dalla sua vita, dalle sue abitudini? Sicuramente, come è successo anche per tutti gli altri personaggi, la prima cosa che accomuna anche tutti gli altri è la determinazione al successo. Ovvero lui voleva fare qualcosa, aveva una visione e ha fatto di tutto per arrivarci. L'ha fatto con passione, l'ha fatto con saggezza, l'ha fatto con forza, l'ha fatto con resilienza, aveva una spinta fortissima, una motivazione grandissima a migliorare la propria vita. Ma non solo la propria, perché Abram voleva anche migliorare quella degli altri. Era una persona corretta, l'abbiamo detto, e capace di affrontare sfide e ingiustizie, quindi gli andava a muso duro. E possiamo anche ricordarci una cosa importante, quest'uomo è partito da una capanna di giunchi, senza nulla di fronte. Non aveva possibilità, non aveva istruzione, non aveva soldi. L'eredità di Lincoln va oltre la sua epoca, oltre l'influenza e la politica, oltre la società e i valori fondamentali degli Stati Uniti d'America. La sua dedizione alla libertà, all'eguaglianza, all'unità nazionale lo rendono una figura immensamente rispettata e studiata in tutto il mondo. Se questo video ti è piaciuto, mi raccomando, solito like, solito commento e solito ci vediamo alla prossima!